Servizio di emergenza del 118 sta per partire una nuova regolamentazione voluta dai commissari Giustini e Grossi. Attesi a stretto giro entro il 15 di febbraio le nuove linee guida che diventeranno i cardini della prossima convenzione tra ASREM e società che gestiscono il soccorso. In questa fase sono in tutto 14 dislocate sulle 16 postazioni a copertura delle diverse aree del territorio regionale. L'attuale sistema di regolamentazione del servizio risale a quanto disposto a fine anni 90 con un costo mensile per le casse della sanità regionale di circa 12 mila euro a postazione, poco meno di 200 mila euro quindi l'esborso mensile della regione. Al momento naturalmente non si conoscono tutte le novità del nuovo decreto, tuttavia tra gli elementi qualificanti dovrebbe esserci la posizione di un tetto ai rimborsi forfettari destinati ai volontari del comparto. Tra autisti e soccorritori sono circa 300 addetti e l'introduzione di ulteriori controlli dei requisiti delle associazioni anche per quanto attiene all'efficienza del parco mezzi. Le nuove linee guida dovranno essere tradotte dall'ASREM in un regolamento ad hoc entro il termine del mese corrente. L'ultimo step del cronoprogramma prevederà a distanza di un mese e mezzo dall'adozione del regolamento la firma delle convenzioni tra ASREM e associazioni. Da rilevare che l'introduzione delle nuove e per certi aspetti più stringenti regole potrebbe ridisegnare l'attuale mappa del servizio di emergenza con alcune associazioni escluse ed altre subentranti.